Eccoci, buongiorno da Studio Unica di Chiasso, lo studio tutto dedicato alla consulenza d'immagine nella Svizzera italiana. Vi faccio vedere, questa è la parte dove tengo appunto le consulenze private, ok? Poi ci entriamo nella zona break per poi andare a farvi vedere quella che è la zona atelier. E questa è una zona dedicata praticamente alla pratica di quello che potrebbe essere il guardaroba o il personal shopper. Questa sala invece è una sala di formazione, qui tengo tutti i corsi per chi desidera imparare la scienza di questa bellissima professione e chiaramente farne o di una passione la professione o comunque portarla in quello che è il settore dove lavora, ok? Qui si tengono anche serate a tema, se si vuole feste di compleanno o di annubilato, insomma dico sempre che Unica è il servizio su misura per te. Se vuoi contattarmi puoi vedere anche il mio sito www.unicastile.ch A presto!